E come chicca finale, non so se avete notato, nei grandi magazzini adesso hanno messo anche il dispositivo antitaccheggio, quello che suona all'uscita sulle bistecche, sui polli. Un tempo era sui cappotti, sugli oggetti di un certo valore, adesso dove le hanno messi questi dispositivi? Sulle bistecchie, sui pezzi di parmigiano, perché ormai la gente cosa vuole che rubi un cappotto? Va a rubare un pollo ai grandi magazzini. E quindi ecco il dispositivo antitaccheggio, uno esce fuori, si è ficato un cetriolo sotto una scella, suona perché sta rubando il cetriolo, porta via un paio di scarpe, non suona niente. Questo ce la dice lunga sul momento che stiamo vivendo. Amici, ci vediamo la prossima settimana, come sempre, naturalmente, occhio e buon proseguimento a tutti.